Il progetto G-Bresh è nato ormai che è il 2020 e durante il lockdown in realtà vivevamo insieme Edo faceva il suo progetto musicale, io ascoltavo solo musica in realtà e ci siamo messi a scrivere un po' di pezzi che poi sono piaciuti, siamo stati in quel periodo in cui si riapriva in garage, abbiamo passato più o meno sei mesi successivi e poi il 2021 è uscito il primo singolo e quando abbiamo cominciato questo progetto questo nome in realtà appunto veniva da un'antica fissa nostra per un personaggio storico che si chiama Gaetano Bresci che è un anarchico di fine ottocento che ammazza il re Umberto I con una rivoltella e ci piaceva un po' l'idea di questo anarchico che rinasce nel ventunesimo secolo, non trova più un re da uccidere e non sa bene verso cosa rivolgere la propria rabbia, ovviamente era un periodo rabbioso anche molto oscuro per noi, insomma ho perso il lavoro, chiusi in casa, insomma tutti se lo ricordano e quindi volevamo in realtà creare un alter ego da te che noi non lo chiamano neanche i G Bresci per noi, noi siamo G Bresci, attraverso lui parliamo o lui attraverso noi, uno delle due. Ma in realtà veniamo da due mondi musicali molto diversi ed ho insomma cresciuto con il poster di Nirvana in camera e io che pure venivo un po' da quel mondo là in realtà poi più tardi mi sono avvicinato più alla musica elettronica, un po' di musica alternativa e poi ci siamo rincontrati in realtà attraverso un paio di artisti che impostano i, non so come li definirei, i padri fondatori, non so, le influenze principali di questo disco che in realtà poi sono entrambi praticamente degli alter ego di artisti che fanno tutt'altro, cioè uno è il progetto punk di Young Lin, che si chiama Dodd Mark, tutto in svedese, bello scuro e l'altro in realtà è un progetto più anche questo pancheggiante di un rapper americano che si chiama Lil Ugly Mane, che ha fatto un disco di cui siamo tutti e due innamorati e che ha un nome che non riesco mai imparare. Qualcosa, qualcosa. Volcani, Bird, Enemy and the Voice Concerned. Ce l'abbiamo fatta, entrambi oltre ad essere molto punk anche dei della melodia. Sì, esatto, che è un po' la cifra poi di quello che ci piace fare a noi. Giochi stupidi è il filo che collega la nostra storia. Ci sono pezzi che sono stati scritti ad aprile 2020 e pezzi invece scritti tre mesi fa. Ne avevamo tantissimi e per noi il disco, noi abbiamo pubblicato un EP, ma il disco era la forma di cornice per la musica che ci interessava di più, quindi abbiamo preso alcuni pezzi che avevano una coerenza narrativa tra di loro e abbiamo deciso di raccoglierli in Giochi stupidi. Giochi stupidi racconta che cosa significa fare delle scelte discutibili nella vita, cioè provare a fare arte, provare a fare musica. Io facevo, faccio principalmente musica, Niccolò è un fotografo, entrambi ci scontriamo col fatto che questo è un mondo molto molto difficile e che ripaga molto poco e quindi in qualche modo un gioco stupido. La domanda, che poi è anche quello che c'è in copertina, alla fine non è tanto stupido quanto altri giochi magari un po' più normali e un po' più seri, come un lavoro volto a comparsi una casa e una macchina e poi la domanda finale è, alla fine tanto finisce tutto nella polvere, quindi tanto vale fare giochi stupidi. Darkness. Ma non stiamo guardando tanto lontano perché sta uscendo il disco, il disco esce il 16 giugno per Border Records, il 6 luglio lo presentiamo a Roma a Eur Social Park in band, il 7 luglio ci trovate a Milano all'Ex Macello e il 16 luglio ci trovate al Pinewood Festival. Altre date verranno annunciate e per ora il nostro sguardo arriva fin qua. Il nostro sguardo va già a destra verso i membri della nostra band. Andiamo a finire l'allestimento adesso. Ciao!